Oggi 2 gennaio si celebra il 67esimo anniversario della morte di Monsignor Giuseppe Di Donna. Alle ore 17.30 nella chiesa cattedrale di Andria verrà celebrata una santa messa per ricordare le virtù umane e spirituali del venerabile servo di Dio Monsignor Giuseppe Di Donna. Una santa messa che verrà trasmessa in diretta su Tele Deonna. Per l'occasione al termine della santa messa e prima dell'inizio dell'anteprima del musical sulla vita di Monsignor Di Donna trasmetteremo una puntata di valori di vita. Una produzione realizzata da Marilena Pastore nel 2014 dedicata tra le altre cose proprio alla figura del venerabile servo di Dio. Allora vediamo insieme appunto uno stralcio di questa puntata di valori di vita. Intanto vi ricordo l'appuntamento con la diretta della santa messa alle ore 17.30, quindi lo speciale su Monsignor Di Donna e a seguire sempre in diretta l'anteprima del musical sulla vita di Monsignor Giuseppe Di Donna. L'episcopato di Monsignor Di Donna inizia il 5 maggio del 1940. In quel momento Andria è una città fervida, una città molto viva. Sì, voglio dire 5 maggio 1940 e di lì a un mese l'Italia sarà coinvolta nella seconda guerra mondiale. Quindi questo è un vescovo che si trova a gestire il periodo terribile della seconda guerra mondiale e il periodo delle tensioni successive alla seconda guerra mondiale e l'inizio di una possibile ricostruzione, anche se poi la ricostruzione verrà alla fine degli anni 50 e all'inizio degli anni 60. Però queste due fasi sono fondamentali e cioè noi abbiamo l'inizio e lo sviluppo di una guerra, una guerra in realtà che non è voluta da nessuno, è inspiegabile anche questa guerra se non dal fascismo che ha realizzato questa strana alleanza con Hitler e si trova coinvolta in una guerra sapendo di non essere neanche preparati. Infatti la guerra inizia nel 1939. C'è un patto, c'è il patto d'acciaio, c'è un asse, Roma-Berlino, eppure nonostante l'asse il patto l'Italia non entra subito in guerra e trovo una formula particolare, non si dichiara neutrale ma si dichiara non belligerante, cioè nel senso che io non sto facendo la guerra, però quasi quasi la faccio. E quando nel giugno del 40 Mussolini dà l'annuncio dell'entrata in guerra, noi dobbiamo pensare a un doppio livello, le immagini che noi vediamo, i resoconti della folla entusiasta addirittura, che sembra una cosa impensabile, cioè la gente che grida, urla e contenta perché c'è la guerra, è quello che invece accade nelle famiglie, perché nelle famiglie è ancora fresco il ricordo dell'altra guerra, sono passati pochi decenni, alcuni hanno ancora i segni dell'altra guerra e hanno visto cosa ha significato, soprattutto per un paese come Andrea, che è un paese agricolo, per cui per molte famiglie, il veder partire giovani che vanno fuori e che sono anche capofamiglia, significa di nuovo ritornare nella miseria, nell'abbandono, nelle coltivazioni che non vanno bene. Se a questo aggiungiamo che tutte le promesse che erano state fatte dopo la prima guerra mondiale, di riordino sociale, agrario, le riforme agrarie, non sono state mantenute e anzi il latifontismo è diventato ancora peggiore, soprattutto nella nostra zona, quindi abbiamo anche qui un doppio livello, il latifondismo che sfrutta, feroce, e i braccianti che vengono sfruttati. Bene, Monsignor Didon si trova ad agire in questa prima fase, che è una fase poi di lutti, è una guerra.